C'erano una volta quattro principesse del regno del divano letto Paddy che avevano un'importante missione. Andare a dormire, immediatamente prendono le bacchette incantate dal loro nascondiglio segreto. Furtive aggirano la fortezza nemica, corrono verso il loro obiettivo, abbassano il ponte elevatoio e conquistano finalmente il castello. Sul regno del divano Paddy si posa un magico manto e le quattro principesse possono tornare a sognare altre avventure. Pijama Paddy